Parto dal punto di vista del farmacista perché questo sono. L'intervento ha mirato soprattutto all'illustrazione di un progetto che è stato svolto a Milano che si chiama Spegnile Respira. È un progetto che è stato svolto dalla maggior parte delle farmacie milanesi e si è articolato dal 2016 ed è in corso tuttora. Vuole sostanzialmente individuare i casi precoci di BPCO e guidare le persone che desiderano in un percorso di disossuefazione al fumo riconoscendo nel fumo la causa principale o una delle cause principali dell'insorgenza di alcune malattie respiratorie. Il ruolo della farmacia è un ruolo molto importante in quest'ottica di prevenzione proprio perché è particolarmente vicino al cittadino perché la farmacia è una porta sempre aperta e ci si può accedere in qualsiasi momento senza necessità di intermediari. Credo che questo sia un grande valore e spero che venga sempre più sfruttata questa nostra peculiarità.